buonasera buonasera amiche e amici di tiscali game surf e soprattutto di pop talk il formato estivo ci porta questa cadenza di due settimane ogni giovedì ogni due settimane ce ne prendiamo una di riposo e poi con l'altra però vi prometto sempre di portare qualcosa di interessante di accattivante stasera addirittura qualcosa di molto cattivo mi viene quasi da dire perché stavolta faremo il tifo per i cattivi in realtà lo stiamo facendo già da tre stagioni quindi non è niente di nuovo e sapete bene perché l'abbiamo annunciato in comunicazione da un po di giorni e anche il mio sfondo parla per sé che stasera abbiamo riunito i boys o almeno una parte della squadra perché ho avuto la possibilità e la fortuna di coinvolgere due dei doppiatori dei cinque però in realtà quattro che effettivamente si fanno sentire con la loro voce dei boys quindi stasera per celebrare anche quella che è stata la conclusione della terza stagione che si è conclusa una settimana fa facciamo un rendezvous mi è piaciuto definirlo così anche in onore di uno dei due dei boys che da marsiglia ci tiene ai termini francesi quindi un rendezvous con parte della squadra per raccontare quello che è stato e quello che magari potrebbe essere ma non sono sicuro del fatto che possa uscire qualche informazione sul futuro passo a presentare i miei ospiti perché stasera voglio essere velocissimo con le introduzioni e con le presentazioni per entrare subito nel vivo della chiacchierata e quindi presento subito vediamo se effettivamente ha fatto il cambio d'abito come si richiede ai grandi vip che tra una scena e l'altra soprattutto a teatro devono cambiare l'abito e quindi do il benvenuto al doppiatore di Serge French Raffaele Carpentieri ciao Raffaele ciao a tutti come vedi l'hai fatto cambio d'abito c'è eccolo d'obbligo era d'obbligo è fornito ufficialmente a chi fa parte dei boys no 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 questa è una maglietta che ho comprato io però è originale di the boys del del merchandising di the boys comunque ciao a tutti ciao a tutti grazie per essere qui passo a presentare quindi un altro tuo compagno di squadra poi ci racconterai se c'è anche conoscenza tra di voi se c'è stato modo di incontrarvi magari di creare un rapporto se già vi conoscevate prima e quindi do il benvenuto a Marco Bassetti che è la voce di Marvin Latte Materno ciao a tutti buonasera ciao 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 Mario ciao Raffaele è molto particolare Marco doverti dare il benvenuto dicendo che sei la voce di Latte Materno è un nome che insomma fa comunque particolare dopo tre stagioni siamo ancora lì a dirci ma perché questo nome molto particolare credo che non l'abbia ancora capito nessuno in realtà però nel tempo magari io ho un po' di acqua Marco tu hai il latte accanto a te io ho del tè vicino a me no no devi mettere del latte pesante Raffaele questo ti fa capire che ci conosciamo bene io non ho la maglietta di the boys ma ho voluto omaggiare game surf con la maglietta Atari spero che tu apprezzerai direi che hai fatto più che bene sarà contentissima tutta game surf e anche Tiscali chiudo solo il giro degli ospiti per dare il benvenuto anche chi mi farà da spalla dal punto di vista delle domande cattive per mettervi in difficoltà per cercare di estrapolare da voi tutto il succo delle informazioni possibili sul futuro di the boys e quindi do il benvenuto direttamente da Lega Nerd a Laura della Corte ciao Laura però non ti sentiamo quindi hai fatto una partenza così falsa riproviamoci sempre di riattivare l'audio scusatemi ormai è troppo tempo che non faccio una live quindi buonanotte quindi ciao a tutti ciao Laura ci piace molto allora dicevamo che Laura ci ha battuti tutti per quanto riguarda il fondale perché ha lo sfondo migliore in assoluto bellissimo cioè oltre ad avere in basso a destra un peluche di Marvin l'extraterrestre ha anche una serie infinita di videogiochi dvd o forse sono tutti dvd la maggior parte sono film sì videogiochi sono bello bellissimo incredibile però è un'emeroteca però un'emeroteca senza robe da leggere ma solo da vedere quindi è davvero una videoteca eccezionale i libri sono altrove ci sono anche loro però prima o poi finirò in cantina secondo me se continuo a accumulare roba sono i libri a metterla in cantina beh mi auguro che ci sia anche qualcosa di the boys lì in mezzo la versione o un video che assolutamente è arrivata a noi ma invece entriamo subito quindi nel vivo della situazione raffaele marco la primissima domanda è vi chiamano per fare il provino per i vostri personaggi oppure no perché magari vi chiamano e dicono c'è la possibilità di fare un personaggio in the boys e all'inizio non lo so vi chiamano per fare carlo urban e non i personaggi che poi avete fatto raccontateci com'è andata svelateci questo retroscena scegliete voi chi può partire vai raffaele vado io grazie latte materno allora la cosa è stata molto semplice in realtà perché non c'è stato un provino e eleonora de angelis che è la direttrice della serie mi ha chiamato e mi ha detto guarda ho pensato a te per questo personaggio è una serie nuova in realtà non si sapeva niente non si aveva il sospetto che potessi diventare una una serie del genere era abbastanza pompata da amazon però non era un insomma lei non è che mi aveva detto guarda questa serie sicuramente avrà questo successo quindi io l'ho presa molto serenamente tranquillamente ho visto che tipo di personaggio fosse french e la prima cosa il primo approccio con french è stato nel capire come non renderlo una macchietta ecco infatti l'onora è stata molto brava in questo perché mi ha detto guarda non deve risultare come l'ispettore collusio quindi non deve sembrare cosa così no anche perché lui in realtà credo sia israeliano quindi lui ha una cadenza sì lui ha una cadenza in realtà fa anche ha fatto anche dei film in arabo e quindi lui ha una cadenza francese però con qualcosa di di arabo di arabeggiante e in realtà dopo qualche prova dove lei mi diceva di spingere un po di più perché all'inizio ha sempre paura di fare troppo ho cominciato a prendere di mistichezza con lui cioè dopo un paio di episodi dopo i primi episodi sa che nel primo lui parlava pochissimo nel secondo ho cominciato a capire anche che tipo di personaggio è quindi lei è un po sporco perché comunque c'è un passato particolare quindi è uno che droghe cose varie insomma non è uno proprio pulito non è un angioletto lo si vede ovviamente e quindi questo mi ha dato possibilità di poterlo anche sporcare un po di più perché non era necessario un'estrema pulizia per il personaggio cosa che a me piace piace molto lo rende anche più vero e poi sono sono andato e dopo qualche puntata ho cominciato a capire perché poi mi sono appassionato alla serie anch'io non è così scontato che chi fa le serie poi le veda per forza infatti molte serie che faccio non le vedo perché magari non mi piacciono oppure non non ho non ho chissà quale piacere nel vederle insomma mi deve anche piacere il genere e invece The Boys mi ha preso davvero mi ha preso davvero e alla fine ho visto che ha avuto questo successo che io onestamente non pensavo all'inizio ma facendole facendole cioè doppiandole ho cominciato a capire che c'era qualcosa di diverso nell'area rispetto sì rispetto ad altre serie qualcosa di molto molto diverso particolare quindi questo è stato il mio approccio e raffaele prima di dare la parola a marco una sola curiosità ma tu conoscevi già il francese o hai dovuto comunque imparare perché alcune volte serge si lascia andare a queste espressioni che tra l'altro io che non conosco il francese non capisco assolutamente che cosa dica però a parte quello sì però quando scrivi esatto quella e quella è bellissima è anche detta molto bene io non capisco cosa significhi però sono curioso di capire il macellaio infatti anche un termine campano per dire il macellaio perché in campagna c'è stata dominazione francese spagnola quindi sono molti termine però siamo nati a dieci chilometri di distanza e non l'ho mai sentita questa cosa perché dove sei tu dove sei tu sei di salerno e guarda lo sciacquettiere è una cosa o sciacquettiere 16 anni allora allora così quindi si è sciacquettiere comprendi adesso comprendi comprendi amico mio no allora io ho studiato sì ho fatto il linguistico ho studiato francese inglese anche un po di tedesco ma in realtà non l'ho mai tra virgolette praticato il francese quindi sono andato un po per assonanza ho sentito un po come le diceva lui mi è venuto abbastanza spontaneo ecco quindi non c'è stato uno studio dietro non ha avuto qualcuno che diceva come dover dire la parola è venuto abbastanza spontaneo e pare sembra che sia venuto bene assolutamente sono sono contento dai assolutamente sì tra l'altro scusa mi diamo questa piccola curiosità poi davvero passo a marco ma the boys praticamente viene è stata creata quasi a nocera perché c'è anche gianfranco mira c'è gianfranco come no come no incredibile che sai è raro si infatti è stranissima è stranissima è metà per metà è made in nocera dai esatto esatto bellissimo anche se lui ci tiene a dire che lui è nato a nocera però di san marzano è gianfranco a vedi lui è vissuta è vissuto è sviluppo san marzano però è nato a nocera quindi non c'era quindi all'anagrafe si è nato lì non c'è niente da fare non può scappare è nocerino a tutti gli effetti nocerino nocerino marco invece raccontaci come è nata come è nato il tuo rapporto con marvin allora io come raffaele non ho fatto un provino sono stato chiamato direttamente mi hanno detto guarda è un turno con eleonora de angelis e pensavo fosse un turno così fine a se stesso e sarebbe finito la invece poi sono andato la eleonora molto preparata era già in sala con il fumetto originale quindi mi ha dato il fumetto non ha fatto un po vedere mi ha spiegato e mi ha detto a questa è una serie un po sopra le righe ma comunque intelligente e ben fatta appena ho visto marvin o latte di mamma che dir si voglia ho pensato alla un po la classica tipologia di personaggi che spesso doppio il duro il cattivo spacciatore io tendo un po questa poi però strada facendo mi sono reso conto che forse latte di mamma il più equilibrato tra tutti quanti boys è quello che tiene più alla famiglia è quello che anche un po più non dico conservatore però un po più in punta di piedi per certe versi poi quando si nervosisce quando si arrabbia ok e action e tutto quello quindi secondo me è un personaggio che vive un po questo dualismo da una parte essere comunque un duro forte combattente tra l'altro non ha poteri non ha niente anche nell'ultima stagione abbiamo visto che lui è l'unico che insieme a frenci anche che non vuole prendere il composto v che non vuole trovare che perché tutti i discorsi del padre che gli faceva eccetera e quindi rimane sempre puro in realtà è questo duro questo umone duro e cattivo ma sempre molto puro che vive per la figlia che ormai ha perso la moglie ma continua a vivere per la figlia è un buono dai un buono è veramente lui è forse tra i più sensibili però è molto quotato da butcher nel senso che butcher pur essendo quasi completamente avverso a lui a carattere perché sono veramente diversi lo vuole sempre in squadra tant'è che è praticamente il primo che va a cercare nella prima stagione e quindi è un bel personaggio ormai alla terza stagione lo vivo bene mi diverto a farlo non è sempre facile perché anche lui ha le sue sfumature e però mi devo sempre ricordare questa cosa che pur essendo duro e cattivone mantiene questo cuore d'oro e credo che insomma non sia facilissimo però è divertente sicuramente marco devo farti una domanda un po un po cattiva e poi magari le prossime saranno meno cattive però sai la polemica nell'ambito del doppiaggio è sempre dietro l'angolo e tu hai doppiato un personaggio afroamericano sai no che le polemiche di oggi dicono che l'afroamericano deve essere doppiato dall'afroamericano però spero sia un complimento per te io penso che la tua voce si incolli in maniera perfetta al personaggio grazie quindi va oltre ok grazie che ma lui è afroamericano e voi non lo sapete quindi in realtà hai fatto uno sbiancamento questo metto questa luce viola così per deviare però sarei curioso di capire qual è la tua opinione al riguardo e magari potresti anche sorprenderci e dire sì sono d'accordo gli afroamericani devono essere doppiati solo degli afroamericani perché hanno un timbro tale che noi caucasici non riusciamo a replicare o magari no allora intanto credo che noi caucasici se parliamo noi italiani se parliamo di doppiaggio abbiamo comunque creato una macchietta su gli afroamericani devono sempre avere il vocione devono sempre se senti tanti attori anche famosi guardi chris rock guardi eddie marphy non hanno queste voci e noi siamo un po abituati però è quello che succede in italia per quanto riguarda il discorso gli afroamericani devono doppiare gli afroamericani e bianchi devono doppiare i bianchi io credo che questa sia una mossa che per cercare di evitare razzismo crei ancora più razzismo in realtà questo è il mio personale punto di vista nel senso che è una voce la voce deve rendere un valore artistico e basta devo riuscire a coprire quel personaggio e devo riuscire a farlo bene e poi io sia bianco che poi io sia cinese giapponese coreano australiano viola ed viola come in questo caso io non è infatti l'ho messa apposta proprio per distruggere questa quest'area di razzismo credo che non sia assolutamente rilevante anzi andare a anche a livello attoriale andare a scatolare un attore un doppiatore solamente all'interno di una razza è una forma di razzismo secondo me quindi no non sono d'accordo credo che chi è bravo a doppiare il personaggio debba doppiare il personaggio poi il colore della pelle è una cosa che non c'entra niente sono d'accordo con marco siamo siamo secondo me allineati tutti a meno che adesso laura non ci dica no io anzi volevo dire che non lo so forse essere artista vuol dire essere un po più avanti su questo tipo di cose nel senso che spesso no si è sentito dire non solo in ambito del doppiaggio anche in ambito attoriale o comunque dei ruoli questa cosa e anch'io la la trovo un po limitante perché è voler inscatolare ancora di più una sorta di etichetta che dai a una persona non solo dal punto di vista razziale ce ne sono altre almeno altre trilioni che sono venute fuori quindi dal punto di vista artistico lo trovo svilente non lo trovo giusto perché questo tipo di lavori va considerato anche in questo certo proprio perché dovrebbe essere una cosa molto più che se un attore ha la possibilità doppiare o comunque coprire un attore che è di un'altra religione sesso no quella difficile un'altra religione un'altra razza è un esercizio di apertura mentale per lui perché e raffaele mi darà d'accordo sarà d'accordo con me in questo periodo c'è un grande arrivo di serie coreane nel nostro ambiente è facilissimo incappare in questo tipo di lavorazioni io coreani francamente fino agli ultimi due anni raramente ne avevo doppiati adesso è un continuo perché sono solamente serie coreane sono molto contenta che lo fai i sottotitoli sono tremendi ah ecco vedi invece sapevo che tanti appassionati vogliono il coreano sono contento che la pensi così poi in realtà per noi doppiarlo è molto difficile difficilissimo sono delle aperture dei suoni parole che sembrano versi molto più a mio agio ad esempio con il giapponese quando faccio gli anime giapponesi che giapponese ha un parlato molto più staccato molto più di da scalico e quindi riesco a capire non il significato della parola ma le pause i tempi col coreano col cinese per me è veramente difficile però è intanto un esercizio che io posso fare grazie al fatto che esiste un'altra cultura un'altra razza un'altra lingua senza questa diversificazione io sarei sempre io raffaele sarebbe sempre raffaele nessuno crescerebbe nessuno conoscerebbe il mondo quindi è anche un bell'esercizio poi fa parte dell'essere attori c'è l'attore il doppiaggio non è è un distaccamento del dell'attore cioè ma soprattutto se un attore nero ma soprattutto se un attore nero lo farà un bianco un nero il pubblico non lo saprà mai non se ne accorgerà mai si accorgerà solamente del risultato io penso guardiamo il risultato non guardiamo il colore della pelle è un politically correct un po' un po' americano un po' paraculo diciamo la giusta si possono dire parolacce bene paraculo non è una parola è una mezza parola è una mezza parola oramai culo è sdoganato come termine diciamo tutti i culo dai uno due tre culo uno due tre culo ok ci siamo sfogati la dose di culo di stasera è vero è un ragionamento verissimo d'altronde ragazzi è di marfi è stato doppiato da tonino a colla direi in una maniera perfetta tutta la vita insomma direi che tra l'altro dato anche una risata che non aveva di marfi esatto quindi ha dato anche un qualcosa in più a di marfi direi che il lavoro che è stato fatto lì è proprio l'emblema del fatto che un attore in grado di un doppiatore in questo caso di incollarsi su qualsiasi personaggio a prescindere dal colore della religione e da tutto il resto raffaele d'altronde ha fatto sergio che è un francese per un attore israeliano quindi direi che meglio di così anche lui non poteva fare stesso colore di pelle però insomma c'erano comunque delle di un'altra cultura sì certo un'altra cultura totale sì allora laura entriamo nel vivo della questione di the boys 3 più di quanto non abbiamo fatto fino in questi 20 minuti che sono già passati 20 minuti e soffermiamoci sui due personaggi che abbiamo qui o meglio le voci dei personaggi che abbiamo qui io mi sono fatto un'idea sui loro ruoli e effettivamente marco dice bene perché il latte materno è cresciuto tantissimo in questa terza stagione e ci ha permesso anche di entrare più a fondo in quelle che sono le sue le sue problematiche quindi tutto il rapporto con soldatino è quello che vorrebbe per la figlia di voler evitare che lei possa andare a inserirsi nel contesto dei super per colpa del padrino e invece sergi sta cercando una strada un po più diversa perché viene fuori tutto parte del suo passato quindi sui problemi anche con la criminalità russa e tu più o meno che idea ti sei fatta di questi due personaggi e dimmi anche se hai magari una preferenza per uno dei due così magari vediamo se raffaele o marco possono in qualche modo smentire le tue preferenze o avallarle allora guarda io quest'anno ho avuto non so se la fortuna o comunque l'ansia di intervistare tutto il cast compreso il regista quindi ti posso dire che diciamo le mie preferenze sono cambiate per colpa di questa cosa qui nel senso che sai quando conosci un personaggio solo sulla televisione o comunque solo in una serie solo in un film ti fai sbagliando tra virgolette un'idea anche di com'è la persona perché un pochino ti viene da farla questa cosa e invece poi quando vedi gli attori proprio fuori dai loro contesti fuori dal scopri un po che tipo di persone sono no volendo non è perché poi scopri magari che una persona che ripete che reputavi eccezionale magari è uno stronzo che si fa aspettare tre ore e ti fa dire anche stronzo ok sì sì si può dire niente io mi sono innamorata penso totalmente di calda lumi perché eccezionale cioè lei alla domanda che gli ho fatto quando gli ho chiesto se era nerd perché giustamente era una domanda da cui non mi potevo esimere lei mi ha fatto perché esiste qualcuno che non è più nerd adesso e quindi lì mi sono innamorata ottima risposta quindi nonostante nonostante il suo personaggio non fosse tra i miei preferiti poi vederli insieme poi fate conto erano accoppiati quindi ognuno di loro era accoppiato un po per tipologia di personaggio che si frequenta di più nella serie quindi si vedeva tantissimo anche l'atmosfera di amicizia no di familiarità che sembra una cosa scontata però anche se lo dicono sempre dicessi nel film abbiamo trovato una nuova famiglia abbiamo avuto questa sensazione di vicinanza poi in realtà non sempre così e vederlo a succedere invece è stato molto interessante e tornando a noi forse il mio preferito perché è totalmente pazzo è il regista perché è veramente pazzo cioè alla domanda che gli ho chiesto ma come mai gli ho detto come mai c'è così tanto sangue in questa nuova stagione ho detto c'è sangue ovunque c'è anche dieci secondi dopo che è iniziata già si inizia a vedere pareti imbrattati e altre cose non voglio fare spoiler magari qualcuno non l'ha vista e la sua risposta è stata molto semplice lineare ha detto tu non sai che figata era vedere esplodere quelle cose quindi ha detto si è divertito più più mi esaltavo perché vedevo sangue tutto era bellissimo e quindi niente lì ho detto vabbè come fai a non amare uno hai scelto il tuo preferito e niente quindi pazzi totali e in realtà ho un debole anche per il personaggio di karen fukara perché lo trovo molto come ti posso dire è enigmatico in un certo senso perché lei riesce a comunicare tantissimo senza parlare tra l'altro laura scusa ma scoop incredibile giusto che tu lo sappia ma lei è doppiata nello stesso momento da raffaele e marco che fanno la voce insieme non lo sapevi lo sapevi neanche lui è io l'ho scoperto all'ultima puntata che come che mi incuriosiva parlando con con chi presta la voce a un personaggio è se voi quando effettivamente lavorato in questo ambito qui avete una preferenza nel senso che magari non è per forza il vostro personaggio o se vi aiuta magari al calarmi nella parte conoscere magari tutta la vicenda della serie perché come diceva raffaele prima ha detto non sempre noi guardiamo effettivamente il materiale no e quindi è questo interessante non so se parto io no più che altro si è quello che dicevo prima nel senso che noi non non leggiamo prima il copione noi non sappiamo di che si tratta come ha detto marco ci hanno chiamato ci chiamano per un turno una serie però magari ci possono dire il titolo e quindi ti va a informare ma quando va in sala tu non sai cosa andrei a fare quindi tu entri in sala il direttore comincia a spiegarti un po il tutto guarda questa è una serie dove ci sono dei supereroi degli degli supereroi che però sono cattivi e ci sono c'è questo gruppo chiamato the boys che vuole combattere con cioè ti fanno un riassunto breve di quello che sarà da quel che mi hanno detto molti colleghi insomma storici un po' di anni fa si vedevano magari dei film importanti c'erano c'era la possibilità di vederli prima in originale oggi se siamo totalmente persa questa abitudine anche per una questione di pirateria molte volte andiamo a doppiare per ora con the boys non è accaduto ma con film di circuito soprattutto capita che tu vedi solo la faccia così oppure vedi solo la bocca è tutto nero quindi non è neanche sì ma più che strano è che tu non sai non conosci non sai nulla della scena cioè tu senti magari due che urlano oppure dei colpi di pistola oppure uno che sta correndo però non sai come si svolge realmente la scena ecco questo è una cosa questa è una cosa che va molto a discapito del nostro lavoro è difficile e poi comunque anche se fai una serie non per forza col pallino così sulla bocca molte volte noi abbiamo scritte cose varie sempre per la pirateria in bianco e nero vediamo le cose in bianco e nero quindi non ha colori oppure delle scritte che magari sono proprio sulla bocca dell'attore quindi facciamo abbiamo difficoltà abbiamo bisogno di un time code per poter capire dove magari quell'attore ha detto quella battuta quindi ci sono tutte queste cose le varie difficoltà oltre a oltre a non sapere magari nulla della di quello che andrà a fare fino a quando non lo leggi a nostra volta noi facciamo gli anelli relativi al nostro personaggio non è che noi vediamo l'evoluzione della storia dell'episodio quindi in quel momento c'è French per esempio che sta preparando una bomba e poi passiamo ad un anello che sta tipo dopo 40 minuti di dell'episodio in cui lui sta facendo un'altra cosa parlando di un'altra cosa di cui non sappiamo come è avvenuta quella cosa quindi dobbiamo chiedere sempre a direttore all'assistente ma perché sta dicendo questo che cosa è avvenuto prima e il direttore ti spiega guardia nel frattempo French ha fatto questo 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 e questo ovviamente se ci sono delle scene in cui French io parlo del mio French non parla non vengono doppiate quindi io non le ho viste neanche perché le scene in cui io non parlo l'attore che doppia non parlo non parla non vengono doppiate da me e quindi automaticamente se French fa delle scene d'azione o dove ammazza uno oppure dove riposa dorme si bacia molte volte tranne se non dobbiamo fare dei fiati particolari non vengono doppiate oppure se non sono richieste da Amazon e vengono doppiati quei determinati frangenti non sappiamo cosa è accaduto quindi noi diciamo la difficoltà è quella nel riuscire a ricreare qualcosa pur non sapendo tutta l'evoluzione della storia ecco Raffaele mi permetto di chiederti a questo punto visto che fai riferimento a questo spesso al fatto che viene nascosta la faccia dell'attore sembra quasi che si stia riducendo la distanza col videogioco perché il videogioco d'altronde rilascia un'onda sonora e basta sì guarda allora io di videogiochi mi ho fatti veramente pochissimi però quei pochi che ho fatto effettivamente era tutto sonda sonora io non credo che si arriverà spero però non credo che si arriverà mai a quello più che altro questa è una cosa fatta per la pirateria fatta perché ci sono regole molto stringenti insomma firmiamo anche liberatorie e altro e per fortuna sono diciamo pochi film particolari che sono star wars è capitato pure superman questi qua insomma che sono un po più nascosti tra virgolette spero che non si arrivi a un eccesso in questo perché altrimenti si sminuisce anche il lavoro stesso non puoi vedere la scena non puoi non puoi vedere il rapporto che c'è tra il tuo attore e un altro un'altra come si sta muovendo si sta camminando sbilenco oppure si è seduto insomma tante cose che fanno parte del nostro lavoro per farlo bene per fare bene il nostro lavoro ecco certo marco ma quello che dice raffaele è verissimo mi accodo a lui aggiungo che secondo me è vero in alcuni film di circuito infatti riesce a vedere molto poco ultimamente ed è invece importante vedere quello che succede intorno all'attore che tu anche per capire il contesto anche perché vi non so c'è caos intorno non c'è caos senza contare che spesso e volentieri almeno per quanto mi riguarda si possa per aiutarsi il doppiatore si può prendere dei riferimenti visivi la mia battuta attacca in quel momento faccio un cambio di voce quando lui gira la tazza quando lui accende la tv se io non vedo la tazza non vedo la tv lo faccio ma chiaramente ho meno riferimenti quindi il mio riferimento non è solamente l'attore che sto doppiando ma è tutto quello che sta intorno all'attore e quello che fanno allora come diceva lui tante cose amazon dice non li doppiamo queste sono già in colonna facciamo un esempio con the boys in the boys magari degli urli potrebbero essere già in colonna l'urlo in the boys al 90 per cento è sintomatico di una scena importante e tu magari non sai quello che è successo poi la direttrice è brava e ti dice guarda negli altri tre anelli ti hanno cioncato una gamba tu non lo sai perché non l'hai visto però ora sei senza una gamba quindi dai un senso di dolore perché tu non l'hai vista questa cosa e quindi però in effetti è vero come dice raffaele tu arrivi se è una serie se stai iniziando un personaggio ti viene data una spiegazione se magari è un personaggio di puntata una cosa più piccola magari neanche quella allora marco anello 5 a raffaele anello 7 parte io spesso e volentieri anche se è una cosa piccola la chiedo sempre sono buono sono cattivo che ruolo muoio non muoio per capire soprattutto poi una serie americana che alle volte sono standardizzati alcuni personaggi so che io muoio non muoio e mi posso rendere un pochino conto anche dell'importanza delle parole sono tante cose che nel tempo poi noi impariamo a fare che ci aiutano tutti ovviamente chiedi anche se sei viola non viola io pretendo di andare solo quando sono io ormai grande ore che tra l'altro in televisione non porta non porta particolarmente bene però no però c'è il famoso film il colore viola che abbatte anche dei principi ma quello è in teatro eh non è in televisione in teatro eh in teatro ragazzi in televisione porta bene basta vedere il marco esatto guarda per quanto riguarda il il videogioco ancora siamo per fortuna molto lontani da come si doppia il videogioco a me è capitato di farne parecchi di videogiochi eh lo scorso anno ne ho fatto uno veramente lungo estenuante che era l'ultimo call of duty il vanguard e dove facevo appunto il protagonista e a parte farmi vedere alcune scene del personaggio e hanno cominciato a farmi vedere alcuni spezzoni per capire un po la trama la storia poi tutta la parte della campagna magari qualcosina mi hanno fatto vedere ma la parte dell'online davo battute così in allegria che si fa così insomma il videogioco la mia paura fissa è e l'ho visto perché poi ci ho giocato che magari delle volte tu dai una battuta leggera non urli intorno c'è il caos più totale oppure delle volte strigli e tutti gli altri stanno a bassa voce e tu sei un po' il cretino della situazione cioè questo non ha capito niente di quello che doveva fare solo quello secondo me non è il cinema che deve arrivare al videogioco ma il videogioco che secondo me è un media molto importante lo diventerà sempre di più nel tempo dovrebbe cominciare a essere trattato come il cinema avvicinarsi quantomeno ad avere un'importanza che ha che è quella che oggi al cinema è un discorso interessante tra l'altro peccato perché qualche settimana fa qualche puntata fa abbiamo avuto ospiti qui a pop talk sia responsabile delle traduzioni di call of duty che una delle direttrici del doppiaggio di parte della serie quindi avresti potuto lamentarti direttamente con loro devo dire che i dialoghi erano molto ben scritti tutte giuste e con ho fatto sia con una direttrice con un direttore sono alternati tutti e due da milano ma erano molto bravi va bene lo stai dicendo solo perché perché capito che voi avete contatti con questa gente quindi fai bene mi ha scritta mi ha scritto appena un messaggio marco non è vero niente sono stati cattivi non lavorare mai con queste persone no mi sono trovato in quanto direzione mi sono trovato bene è il modo in cui si fanno i videogiochi delle volte mi piacerebbe avere qualcosina in più per è vero è vero perché purtroppo effettivamente sai col fatto che si doppiano mentre magari non sono stati ancora finiti è un problema perché magari non riescono nemmeno a mostrarti nulla e il problema che notavi tu ossia il fatto di urlare quando magari tutti tutti gli altri attorno a te non stanno urlando è qualcosa che capita spesso perché purtroppo non sapendo che cosa accade è molto facile che poi la interpreti in un modo assolutamente andava fatta in un altro modo c'è vero marco assolutamente sì raffaele curiosità dal punto di vista di quella che è stata di quello che è stato poi l'incarico che vi è stato dato quando siete stati scelti per fare i vostri personaggi vi è stato detto che avreste dovuto coprire più di una stagione o all'inizio era solo una prima stagione e poi chissà cosa accadrà mario dai adesso vai tu poi vai 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 marco io credo che quando arrivi la prima stagione neanche si sa se arriverà una seconda a meno che non è stata una riedizione di una vecchia serie quando arriva è un po una novità per tutti tutte le grandi serie non so friends le grandi serie che hanno fatto la storia della delle sedi delle sitcom how i met your mother da quello che ho capito raramente si sapeva prima quante stagioni sarebbero io a tutt'oggi credo che the boys sia stata scritturata per una seconda stagione firmata per una seconda stagione ma non so quante sarà totale ne hanno ne hanno annunciato adesso la quarta quindi ok sì questo va però quante hanno detto che più o meno sarà un un bel po insomma non si fermeranno presto io credo che ne faranno almeno altre almeno altre due stagioni secondo me le faranno penso anche io almeno almeno anche perché senza fare spoiler però in realtà il finale del fumetto non è più irraggiungibile perché alcune cose accadute nella terza stagione hanno praticamente cancellato la possibilità di equiparare o comunque di ricalcare il finale del fumetto so che ha preso una strada diversa diversa ah vedi non sapevo ho letto però anche che molte persone stanno apprezzando più la serie del fumetto mi sento di dirvi che effettivamente alcune scelte anch'io le sto apprezzando un po di più e alcuni personaggi li sto li sto apprezzando più di quanto di quanto accaduto rispetto al fumetto non so se l'ha letto i fumetti mario io no non li ho letti tutti ho iniziato perché ero molto interessato poi per necessità sono andato a spoilerarmi tutto quello che succede arrivato a leggere fino alla fine e mi sono reso conto che insomma ci sono proprio delle cose che nella serie non possono più accadere perché i personaggi non ci sono più quindi direi che effettivamente è un problema sì credo che abbiamo cambiato tante cose ma penso sia anche fisiologico anche perché la serie si è prestata a tanti altri aspetti che magari nel fumetto non venivano analizzati in maniera secondo me non dico adeguata però venivano analizzati in maniera diversa c'era un gioco diverso anche tra i vari personaggi anche il fatto che yui scoprisse molto tardi l'identità di starlight e invece adesso qui addirittura si è arrivati senza fare spoiler per chi non ha visto la terza stagione a rendere starlight molto più interna a quelli che sono i meccanismi anti super è già qualcosa che ti permette di capire che c'è stata una separazione in qualche modo lo stesso fatto che dei super oramai siano rimasti almeno della formazione originale in pochissimi è un altro esempio del fatto che c'è proprio una nascollatura dal fumetto io vi dico lo sto preferendo la serie al momento anche in funzione di quello che mi sono spoilerato e che sarebbe potuto accadere non so se laura è del mio stesso avviso adesso mi dirà no cazzate sdoganiamo anche cazzate che si può dire aggiungiamo alla lista delle parolacce cazzate non è assolutamente vero il fumetto è tutta un'altra cosa no allora in relazione a questo sono d'accordo io mi sono spoilerata tra virgolette nel senso che l'ho solo anticipato perché ancora non ero arrivata a quel punto la puntata diciamo sono andata a vedermi su cosa era basata la puntata di irogasma che era qualcosa di assurdo e infatti diciamo è una sorta di era stata intesa come uno spin off all'inizio perché erano sei numeri della graphic novel e secondo il canone era più o meno tra gli insomma i numeri 30 31 giù di lì e ancora non non c'era arrivata quando era stata annunciata la serie la nuova stagione insomma la terza stagione e il fatto di come è stato presentato diciamo questa questa festa un po assurda e come anche è stata messa in scena l'ho trovato geniale perché a parte il fatto di aver creato anche molto hype prima che effettivamente questa puntata venisse messa in onda anche quello è stato abbastanza orchestrato molto bene è stata come posso dire una di quelle scene che probabilmente verrà ripetuta in maniera infinita non solo nei meme ma che verrà riusata per parlare di altre cose in futuro perché è fatta in modo assurdo capito è proprio che ti viene da pensare ma questo cosa ha pensato per fare sta scena no che già ce ne sono parecchie durante la terza stagione ma questa in particolare è assurda e quindi volevo vedere come era nel fumetto per capire un po cosa cosa c'era e cosa non c'era e com'è nel fumetto com'è nel fumetto si svolge tutto in maniera tra virgolette più lenta permettetemi il termine nel senso che essendo due numeri non ha la stessa velocità della puntata perché nella puntata sembra finire tutto troppo velocemente che tu rimani un po lì come dopo una sbronza e non capisci bene nemmeno tu che cosa è successo e dici ma cosa in effetti è abbastanza veloce che è un po la cosa che ti chiedi durante tutta la stagione la terza stagione in realtà cosa ho appena visto perché ne vorrei dire no perché a chiedergli come ti è venuto in mente di fare tipo la prima scena della prima puntata senza dire cosa succede ah madonna ragazzi io ho sofferto tanto ho sofferto tanto senza io non fare spoiler no no non dico niente lui mi ha detto molto semplicemente guarda in realtà io avevo visto un altro film mi ha detto dove c'era una scena diversa nel senso che la protagonista in quel caso era una donna dove succedevano altre cose e ho detto perché non farla invece per the boys facendo succedere altre cose e lì ho detto no vabbè è un film vecchio tra l'altro un film per farvi capire dove parlava di questo personaggio che voleva ritornare nell'utero materno voleva tornare a casa assurda ok dove lui ritorna nell'utero e quindi lui mi ha detto sì io volevo riprendere questa cosa e l'ho fatta a modo mio l'ha ripresa bene direi e adesso voglio sapere cosa ne pensate voi di questo episodio e appunto come tra virgolette l'avete visto quando l'avete doppiato e poi se l'avete visto intero oppure l'avete scoperto dopo che avevate io io l'ho io l'ho visto perché ti doppio con questo commento che qualcuno ti chiede ti è dispiaciuto perdere l'erogasmo ma in effetti ma in effetti io quando poi anche alcuni colleghi hanno detto ma hai visto la puntata hai visto la puntata dell'erogasmo ragazzi ma io non so cosa sia sto erogasmo perché in realtà non l'ho vista perché non ci sono lì quindi quando poi è uscito assolutamente niente no 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 hai visto l'erogasmo valla a vedere perché è particolare quindi ho dovuto aspettare che uscisse in tv per vederlo perché non sapevo assolutamente niente e invece la scena quella iniziale di cui parla laura io l'ho vista perché c'era frenci ammetto che mi sono girato verso eleonora verso la regia ho detto ma si può dire cazzo ma che cazzo che cazzo di che cazzo di scena è cioè resti non posso dirla cavolo perché però ci resti realmente vedere vedere quella quella cosa non aggiungo altro comunque è stata cioè da the boys ok come la la prima scena della della prima stagione quando i train distrugge la la fidanzata del povero il povero e questa è questa è più è più forte però ho pensato ma come la come l'hanno pensata questa come l'hanno immaginata questa scena quindi adesso che laura ci ha parlato del regista capisco perché il regista letteralmente letteralmente matto il regista però questa era anche la bellezza di questa serie no che è completamente contro ogni schema secondo me anzi ho trovato questa serie molto più godibile questa stagione molto più godibile della seconda non so voi ma la seconda l'ho trovata come un qualcosa di preparatorio cioè come se nella seconda ci fosse stato un una ispirazione ispirazione scusate no ispirazione del regista ispirazione e questa fosse un l'espirazione cioè come se la seconda fosse una preparazione per questa terza e ancora per la quarta ho avuto questa impressione l'anno scorso l'arco narrativo di french poi ti fa soffrire abbastanza eh perché sei abbastanza in ansia per lui sì lui ha lui l'ho trovato molto più un po più nevrotico quest'anno e anche in alcune scene praticamente così cosa che non aveva negli altri anni io ho pensato ho parlato con le leonora ha detto beh può essere che dato che si sta disintossicando dalla droga può essere che ha queste no queste varie cose che poi vabbè chi mi colo becca sempre a drogarsi cioè comunque si droga alla fine quindi non è che però sì diciamo l'arco narrativo suo è molto particolare perché alla fine tendenzialmente è l'amore che lo sta salvando quello è perché altrimenti lui ricadrebbe in tutte le sue e l'amore che ha trovato anche lei per lui perché comunque lei è sempre stata molto distaccata invece già dalla seconda stagione c'è questo avvicinamento da parte sua quindi lei si sta comunque innamorando di lui e quindi ed è l'unico l'unica credo l'unico momento romantico perché anche ehm yui io lo chiamo yui e starlight hanno qualcosa di romantico però tra chimico e french c'è qualcosa di più c'è c'è una chimica diversa c'è storie diverse c'è veramente qualcosa di di puramente romantico e sono più tenere sì c'è sì perché hanno hanno vissuto una vita di merda si può dire hanno vissuto siamo alla qua di merda hanno vissuto una vita di merda e quindi si sono ritrovati in questa merda a uscire da questo da da tutto questo e a ritrovarsi a riuscire riuscire ad uscire dalla merda insieme e questa è la forza di questa coppia non so se li ha intervistati insieme tra l'altro france e chimico come sono come sono sono loro due l'ho trovati molto timidi si agli altri che invece sono più esuberanti più casinari soprattutto eh il regista che non sta fermo un secondo peggio di me che sto dondolando due ore sulla sedia scusa essere iperattivi è un dramma e ecco tipo anche lui non stava fermo un secondo in quel video cioè era sempre andava da tutte le parti mentre parlava poi non si sa bene dove guardava si spucciava i piedi assurdo assurdo si spucciava i piedi si te lo giuro si che c'era la gamba in mano ma cosa sta facendo un torsionismo mentre parla fantastico poi loro erano tipo in un albergo no perché a seconda di dove gli intervisti sono in posti diversi no a volte sembrano come come ho detto l'ultima volta mi è capitato uno di degli attori di miss marvel che sembrava un prigioniero coreano perché era tipo in una stanza bianca senza niente solo su una seggiolina ho detto non è che l'hanno sequestrato sto ragazzo perché iniziava a preoccuparmi un pochino e loro due sono molto timidi molto come ti posso dire che si supportano l'un l'altro tipo finiscono veramente le frasi l'uno dell'altro tipo che parla lui e poi lei gli ricorda un po' che cosa dire perché lui è quello che parla un po' meno lei parla di più quindi sì loro sono quelli che ho trovato più più tranquilli più timidi invece altri erano proprio gasati belli gasati si proprio american style la bestia proprio fantastico poi mi piace l'entusiasmo che ci hanno semplicemente quando parlano del dei loro progetti che ve lo giuro cioè se anche non vi piacesse una cosa ve la fanno piacere da come ne parlano sono proprio convinti marco ero curioso di chiederti invece proprio dal punto di vista dell'interpretazione del personaggio noi sappiamo che marvin è pieno di nevrosi soffre molto si agita moltissimo hai dovuto fare uno studio particolare o magari come attore ti era già capitato di interpretare un personaggio del genere perché poi immagino che anche a livello vocale sia necessario restituire qualcosa con tutte quelle nevrosi certo mi è capitato di fare un personaggio autistico in passato che non è esattamente la stessa cosa ma che comunque è un personaggio che mostra le sue debolezze e si devono vedere e questa cosa va capita soprattutto a livello vocale un personaggio come latte di mamma si ricollega un po' al discorso di prima è difficile pensare che un personaggio così esteticamente forte poi possa essere così non dico debole però possa avere queste grosse fragilità io credo che per esempio a differenza di French che è abbastanza invischiato in droghe cose varie intanto lo vedi è un po' schizzato l'essere schizzato di Marvin è dovuto a tutti i problemi che lui forse non avrebbe neanche mai voluto avere perché quello che io penso di latte di mamma è che lui voleva stare con la moglie e la figlia e basta questa è la mia immagine che ho di lui quindi tutto quello che gli arriva addosso e che lo rende poi insicuro il ritorno di soldatino lo distrugge completamente è un qualcosa che lì per lì mi fa sempre fatica a riuscire a prendere infatti c'è la direttrice che dice guarda però adesso questo è uno dei momenti in cui lui è più umano è finito il momento dell'azione ci sono dei momenti in cui lui spiega senza fare spoiler però nella terza stagione lui si lascia andare a grandi spiegazioni emotive sul come sta, su quello che succede e lì chiaramente cerchi un po' di non alleggerire la voce perché comunque la voce deve essere sempre la sua ma alleggerire un po' i toni mentali cioè cercare di essere un po' più vicino a lui comprendere, smontarlo un po' da questa corazza da eroe e vederlo il più possibile umano vederlo quasi indifeso cerco di fare questo esercizio per coprire le parti in cui, che ci sono in quasi tutte le stagioni in cui lui tira fuori questo grande cuore che ha perché poi lui è un personaggio da cuore grande allora lì forse sì, devo un po' prendere questo cavaliere levargli l'armatura, piano piano, farci un lavoro e allora magari un pochino fortunatamente io ho, sì, una voce fonda ma è comunque una voce giovane quindi non è una tromba che ho difficoltà riesco a muovere quindi i lati più dolci, eccetera mi riescono a venire mi riesco a coprire però è sempre questo dualismo c'ho sempre questa alternanza di botte e amore botte e amore un po' così però è anche il bello del personaggio sì, non sei come la voce di Butcher che deve essere sempre terribilmente incazzata sempre incazzato quanto sia validissimo quello che dice cioè è più monotematico come recitazione è il capo e poi è proprio è guidato da un solo istinto Butcher invece forse Latte di Mamma e soprattutto nella terza stagione Frenchy cominciano a vedere delle cose diverse cominciano ad andare verso altri Raffaele invece la curiosità che ti chiederei è legata proprio a questo modo che hai deciso di avere anche se prima ci raccontavi che è stato più un accordo con la direttrice per fare la voce di Frenchy perché comunque poi sei costretto a tenerla per sempre quindi quello che fai come scelta diventa anche un po' una condanna perché dici ok magari non mi sforza troppo però una volta che l'ho fatta se non è la mia voce naturale ma devo comunque modificarla poi me la devo portare per sempre un po' come quando Claudio Moneta ha deciso di dare a SpongeBob quella voce è fatta una volta poi te la porti per sempre non è così facile tenerla questa diciamo che è la difficoltà del nostro lavoro anche la bellezza la bellezza di poter essere diverso ogni volta in realtà la difficoltà principale è quella di non andare troppo sopra di non esagerare di non esasperare quindi diciamo che sono riuscito vocalmente a tenere sempre una anche ti parlo proprio di pasta vocale diversa perché se tu lo senti l'originale lui spinge lui spinge molto così parla molto così cioè anche quando parla in un ambiente aperto lui non apre mai la voce quindi quella è un'altra difficoltà perché a me verrebbe di farlo diversamente ovviamente in modo devi trovare il modo di essere naturale per te stesso e per l'attore e di riprodurre bene o male quello che ha fatto lui cioè non fare una cosa diversa da quello che ha fatto con Chiato e lui tende a parlare sempre un poco con questa cosa così parlare così un poco no? e devo essere sincero aspetta no però la cosa fica del mio lavoro che io adoro è che io non mi sono fatto il problema questa poi la devo portare questo tipo di voce la devo portare per altri cinque anni sei anni perché in realtà ogni volta che andiamo a fare un personaggio diverso noi tendenzialmente un po' la cambiamo anche mentalmente cioè anche proprio di testa cambi l'approccio e di conseguenza ti viene anche vocalmente quindi Frenchy vedendolo proprio lui come si muove come gesticola mi ha portato ad avere questo tipo di parlata che alla fine parla così e poi lui ha anche queste cose francesi ogni tanto ecco su quelle forse ho avuto un po' più di difficoltà perché dovevo farle proprio molto simili a lui però mi sono divertito un casino ragazzi cioè io mi diverto tantissimo a parte la serie bellissima però come vi dicevo non è detto che io guardi una serie che faccio molte serie che ho fatto assolutamente però però io mi sono divertito con lui veramente in tutto anche nelle scene anzi soprattutto nelle scene un po' più drammatiche no? perché lui non ti aspetti che poi ti parli del padre che comunque si è comportato male con lui cioè lui ha delle uscite fantastiche però allo stesso tempo ha dei momenti molto molto drammatici della sua vita del suo passato quindi è un misto ecco Frenchy è un misto perché ha il cuore romantico è un spacciatore uno che si droga uno che crea bombe anfetamine infatti una volta che vede le droghe c'è le paradiglie quindi cioè c'ha queste queste uscite stupende stupende ma tra l'altro scusami Raff ti volevo chiedere una cosa e anche a voi io ho notato secondo me Frenchy è vestito sempre identico a Robert De Niro il taxi driver no c'è qualcosa è vero un po' di fredda la mimetica è uguale sì secondo me si è ispirato un po' anche un po' io ho visto anche un po' che soprattutto in questa stagione si è vestito un po' come nei fumetti sì o sbaglio un po' più simile ai fumetti sì rispetto a altre stagioni tu l'hai letto il fumetto? sì sì io sì no però ho visto ho visto delle immagini del fumetto ho visto com'è Frenchy sul fumetto e quest'anno l'ho visto un po' diverso rispetto a altri anni a parte che mi sembra anche che sia un po' più ingrossato sì proprio lui si è fatto un po' più grosso è l'amore è l'amore è l'amore e invece Kimiko è diventata più carina è diventata molto più carina Kimiko secondo me ha iniziato a sorridere cosa che non fa sì è vero ha dei sorrisi che sono bellissimi ha dei sorrisi meravigliosi non diciamo altro basta diciamo che sorridere allora in chiusura la domanda è senza cadere nello spoiler c'è una battuta dei vostri personaggi che vi è rimasta più in mente questa è la classica domanda che si fa ai doppiatori sì a me vabbè ce n'è una di quest'anno che troppo sì vabbè la dico c'è c'è Yui che dice dobbiamo andare più nel profondo cose del genere e e Fragi sullo sfondo più profondo nel culo così così all'improvviso tutto profondo nel culo così senza perché però mi è rimasto impressa oppure quando l'anno scorso si trova si trova il mega pisello intorno al collo quello è bellissimo hai un cazzo intorno al collo sto stupendo perché come lo dice è bellissimo quindi vabbè ce ne sarebbero altre insomma sono tante di frecci però vabbè queste sono un po' le più eclatanti dice l'atte di mamma dunque quest'anno mi è molto divertito quando Yui vabbè succedono delle cose Yui si ritrova nudo non faccio Yui si ritrova nudo tutto così e l'atte di mamma tranquillo è il cazzo di fuori basta è vero è vero è molto bello in un momento di grande combattimento si rompe un oggetto particolare e lui lì tira fuori tutta la sua rabbia perché finalmente vede certe cose si è benedita si affanculo il tuo cazzo di scudo bellissimo quello l'ho detto con tutto me stesso proprio perché legandomi al personaggio capivo tutta la sua frustrazione e vabbè mi è piaciuto molto mi sono divertito in questo però come dice Raffaele ce ne sarebbero milioni hanno sempre questa capacità di tirare fuori l'umorismo quando in realtà di umorismo non ci sarebbe nulla quando venute l'aspetta io sento un po' male non so voi no io io vi sento in questo momento ti sto vedendo male a te è vero sì e che la sua connessione sente che siamo arrivati in chiusura e quindi a me sta per dare il canto del cibo si sta ribellando sì io in chiusura però dai dai resisti ci siamo siamo in chiusura io in chiusura direi che effettivamente no vai Marco dici volevo solo chiedere una cosa Laura si chiami? Laura 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 sì questo è un nome d'arte Laura ti volevo chiedere scusa mi hai detto tutti ma com'è il latte di mamma dal vivo? senti lui è stato un po' sulle sue all'inizio perché è colpa anche mia che avevo più domande sull'altro personaggio ammetto mia pulpa e lui magari si è sentita no però poi invece l'ho trovata una persona molto brillante nel senso sai di quelli che magari non parlano molto però quando dicono una cosa ti danno tipo un punto di vista diverso da quello che avevi pensato se ecco mi ricordo che su una scena in particolare gli avevo chiesto una spiegazione e lui mi ha detto giusto anche lì perché non potevo fare spoiler mi ha detto sì potrebbe essere così ma se provi a pensarla in un'altra maniera non lo posso dire se non faccio uno spoiler sì no certo ok se provi a pensare in quest'altro modo però sembra tutta un'altra cosa e tipo e lì veramente non ci avevo pensato e mi ha mi ha stupito tantissimo perché comunque l'ha detto anche in maniera sorgnona no? come si dice un po' no 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 eccezionale non succede è stata un'esperienza bellissima immagino non succede spesso che tutti gli attori di un cast siano così come vi posso dire divertenti affiatati e piacevoli con cui parlarci insieme perché alla fine le interviste lo sapete sono un po' tipo un match di pugilato devi essere molto veloce hai quel tempo lì eccetera eccetera te la devi giocare bene sì esatto in alcuni casi diventa una cosa un po' ansiogena invece in questo è stato molto piacevole sì sarebbe fico un incontro tra gli attori e i doppiatori sarebbe fichissimo va bene va bene va bene accetto la sfida vai vai Mario vai vai ci vediamo in che lingua parliamo però ecco non in coreano loro parlano in inglese voi parlate in italiano vediamo a vedere mentre loro parlano in inglese esatto loro parlano in inglese voi li doppiate li doppiate sarebbe fichissimo sarebbe fichissimo saranno solo domande senza risposte perfetto esatto bravissimo no però sarebbe molto bello e possiamo possiamo pensarci magari sfruttiamo siccome Paptalk qualche mese fa ha debuttato anche dal vivo al Carrara Carrara Gamix tra tutti i nomi su games mi scappa a volte il nome di quello giusto potrebbe essere l'occasione per riproporlo dal vivo magari al Modena Nerd a settembre quindi Modena Nerd tieniti pronto e proviamo a organizzare qualcosa di bello vediamo cosa i potenti mezzi di Tiscali coraggio monami ragazzi io vi ringrazio moltissimo abbiamo fatto un'ora e qualche minuto in più grazie a voi è stato bellissimo è stato bellissimo Laura giustamente diceva è sempre un incontro un po' di pugilato invece noi abbiamo avuto la possibilità di avervi qui per un'ora quindi abbiamo potuto spremervi all'infinito per avere tutte le informazioni possibili quindi grazie davvero grazie a voi ragazzi io faccio prima dei saluti una chiusura ricordo a tutti che la puntata sarà disponibile da domani anche su Spotify su YouTube chiaramente anche su Apple Podcast per chi volesse ascoltarla soltanto invece che vederla e sempre anche su Twitch l'appuntamento non è per giovedì prossimo ma è tra due settimane perché nel formato estivo ci riposiamo una settimana e l'altra invece lavoriamo perché pare che siamo stanchi anche noi e quindi ci prendiamo una settimana di riposo grazie mille per essere stati con noi una buona serata e ancora grazie a tutti gli ospiti che sono venuti ciao a tutti ciao